dal vangelo di san luca a voi che ascoltate io dico amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano benedite coloro che vi maledicono pregate per coloro che vi trattano male a chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue non chiederle indietro e come volete che gli uomini facciano a voi così anche voi fate a loro se amate quelli che vi amano quale meriti ne avrete anche i peccatori amano quelli che li amano e se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi quale merito ne avrete anche i peccatori fanno lo stesso e se prestate a coloro da cui sperate ricevere quale gratitudine vi è dovuta anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto amate invece i vostri nemici fate del bene e prestate senza sperarne nulla e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'altissimo perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvaggi siate misericordiosi come il padre vostro è misericordioso grazie a tutti grazie a tutti